Salve agenti, sono il Sotto e siamo ritornati nel Leghunt 2020 Agents of AGG e nello scorso episodio abbiamo fatto un bel po' di uova, sempre tre uova, con gare, pezzi di pollo e cellulari, sì, un po' di informatica ora possiamo salire al prossimo piano, inizieremo con, rullo di tamburi, bad business, un po' simile come Tiny Trunks, ok, ve lo dirò tra poco Fai molte kill per avere una stanza per ottenere leg munition, già, praticamente è come Tiny Trunks, in poche parole devi ammassare gli altri e poi, puoi avere la probabilità di... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bene ragazzi, ci troviamo su Bear Alpha, un gioco in cui dovesse essere un orso e fare il sedere agli altri giocatori. In poche parole. Bene. Cosa bisogna fare per ricevere l'uomo? Dobbiamo innanzitutto andare in partita e cercare una chiave che verrà usata in questa porta qua per continuare la missione. Per adesso pensiamo alla prima fase. E intanto per l'attesa mi farò un hobby. Sono l'orso? Bene, 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 bene. Bello che è. Ora cerchiamo i giocatori. Più che cercare i giocatori a me serve la chiave, quindi cerchiamo la chiave piuttosto che i giocatori. A me cosa mi interessa giocare. Io sono qui perché voglio la chiave. Ah, dov'è sta chiave maledetta? Dobbata! Mamma mia che bravo che sono! Ce l'abbiamo fatta ragazzi, in poco tempo abbiamo vinto! Mamma mia che bravo che sono! Perfetto, perfetto. Ora ragazzi possiamo accedere dentro nella porta. Vediamo se mi fa andare. Perfetto. Ok, dove siamo? Siamo in una galleria. Allora c'è scritto pub, g, p, p e b. Ci sono delle parole qua. Allora in caso di emergenza il codice nascosto per uscita da non mostrarlo. Allora, dobbiamo quindi inserire qua il codice. Dobbiamo controllare bene lì le stanze. You better join. Quindi il purple, il purple, il viola è l'ultimo. Eh, this must be one of the ugly modern art projects, I don't see the point of this. Forse blu. Allora, il primo abbiamo detto che era blu. Poi il secondo rosa. Mamma mia, vai. Poi abbiamo detto ancora blu. E infine viola. Primo blu. Secondo. Vio rosa. E il terzo rosa. O altrimenti verde. Perfetto. Ok, vedo chi sei riuscito a maneggiare il codice. It is per page. Cosa? Oh. Eh, l'ho notato amici. Vai. Cos'è sto abominio qua? Siamo? Non ancora. L'uovo è lì, ragazzi. Quindi ci siamo quasi. Vediamo. Non posso prenderlo, quindi devo schiacciarlo. Hai ottenuto l'uovo. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta. Quindi il bear egg è stato preso. E ora spero che mi riportino a casa, altrimenti. Bene, ragazzi. Ci troviamo in uno dei giochi in cui ci ho messo tanto amore. Ovvero B-Swarm Simulator. Come potete vedere, sono molto attestato per questo gioco. Quindi fare la quest non sarà un problema. Dobbiamo andare a parlare all'orso agente delle quest. Ok, va bene. Perfetto. Dobbiamo aiutare tre orsi a catturare questi polli. C'è un'altra cosa. Ok. Prima questa. Prima questa è. Colleziona 300 polline... Dai... Dai girassoli. Va bene. Fatto. E catturiamole... Dove sono? Vabbè... Dai su, ammazzateli. Perfetto. Un altro, me ne serve. Eccolo qua. Mi raccomando. Perfetto. Eccolo qua. Perfetto. Abbiamo già fatto la prima quest. Forse, non lo so. Sì, sono un errore. Perfetto. Avevamo fatto uno su tre. Ora andiamo a chiedere al... Mamma orso. Sì. Farma un ape con un pezzo di luna. Va bene. E catturiamo... E dobbiamo catturarne una. Allora. Ne ho una di luna. Com'è? Sì? Lo diamo a uno... Che è basso di livello. Fatto. Va bene. Nel frattempo possiamo... Chiedere... Cosa è stato qua? Ah. Dobbiamo trovare... Dobbiamo tagliare... Sì, come faccio a tagliarle? Mi servono delle forbici? Magari con queste qua? Non lo so. Ma sono un genio, ragazzi. Sono un genio. Perfetto. Eccolo qua. Il boss. Molto difficile, chissà. Perfetto. Ora dobbiamo solo cercare quel... Quel polletto di cui non ho capito dov'è che deve... Ah, ho capito! Eccolo dov'è! Ma vieni qua! Perfetto. 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 Perfetto! Abbiamo finito anche questa missione. Prendendo tutte le tre... Facendo... Completandole tutte e tre. E adesso controlliamo un attimo se sull'Eggfon c'è. 27 su 53. Beh dai. Bene, allora ci vedremo ad un prossimo episodio di Egg Hunt 2020, Agents of Egg. Ciao ciao!